È stata a Bottega di Vallefoglia la prima tappa del Presidente Mattarella in terra marchigiana. Qui il Capo dello Stato ha inaugurato il Teatro Giovanni Santi, il nuovo auditorium cinema e teatro da 340 posti che per una settimana, da lunedì 22 a domenica 28 gennaio, ospiterà gli eventi di Pesaro 2024. Ad accogliere il Presidente, il tricolore alle finestre e le bandierine sventolate dai bambini. Una visita breve ma intensa circondata dal calore della comunità di Vallefoglia, il primo dei 50 comuni del territorio protagonisti a turno per una settimana di Pesaro, capitale italiana della cultura. Siamo qui in piazza Piola Torre e via Pier Santi Mattarella, è un polo di contrasto alle mafie e all'educazione alla legalità. L'aula magna di questa scuola è intitolata Carlo Alberto della Chiesa, quindi ringraziamo il Presidente della Repubblica per questo regalo. Lunedì alle 18 si inaugurerà la settimana della cultura italiana a Vallefoglia. È stato anche un impegno, uno stimolo perché finire i lavori di quest'opera innovativa, perché è un luogo per i giovani, per la musica, per il cinema, per il teatro classico.